Allora, abbiamo fatto questa ricerca, il rapporto sull'innovazione, la parte che presentiamo oggi è relativa alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Sì, esatto, è uno dei capitoli del rapporto sull'innovazione in Italia, abbiamo visto le tasse, i robot, la cultura degli italiani verso i processi innovativi, oggi pubblica amministrazione digitale. Allora, vediamo la prima slide, intanto il titolo secondo te cos'è? Cioè, qual è l'executive summary che è emerso da questa indagine che abbiamo fatto? Il titolo è, nell'immaginario degli italiani, la PA digitale ancora non è arrivata. Non è ancora arrivata, allora vediamo un attimo, vediamo la prima slide, vediamo la prima risposta. Il giudizio sul funzionamento della pubblica amministrazione, 53% piuttosto male, 18% molto male, a me inculciscono quelli che hanno detto molto bene il 2% che hanno fatto, che hanno provato. In qualsiasi indagine gli ottimisti ci sono sempre dei beni così. Allora, innanzitutto facciamo una premessa, questa è un'indagine fatta alla fine del mese di giugno, ai primi dei mesi di luglio del 2017, ha visto interrogare oltre 2.000 persone in un panel rappresentativo della popolazione tra i 18 e gli 80 anni, quindi abbiamo intervistato persone che avessero già la maggiore età. ricordiamo anche i dati abbastanza consolidati sull'uso di internet in Italia, perché poi servono a decodificare quelli che vedremo dopo. Secondo i dati Eurostat, fra i 14 e i 75 anni in Italia il 25% della popolazione non ha mai usato internet, contro il 14% nella media dei 28 paesi europei. Quindi noi dobbiamo tener conto che in Italia l'utilizzo di internet è significativamente più basso della media degli altri paesi. Secondo dato, secondo gli stessi dati Eurostat interagiscono negli ultimi tre mesi, almeno una volta con la pubblica amministrazione online, soltanto il 34% degli italiani contro il 58% della media europea. Quindi abbiamo comunque non soltanto un gap di internet, ma anche un gap nell'uso dei servizi di governo. Quindi un italiano per tre una volta al mese gli tocca interagire con la pubblica amministrazione? Interagisce con la pubblica amministrazione. Perfetto, andiamo a vedere. Di questi però soltanto il 16% utilizza sistemi evoluti di interazione, quindi è nelle condizioni di poter iniziare e completare un percorso digitale all'interno dei portali o dei siti dell'amministrazione pubblica, perché interagire significa anche acquisire informazioni. In realtà solo il 16% degli italiani, la media europea è il 34%. C'è un gap italiano. Secondo te questo risultato è il 53% piuttosto male, 18% molto male, come lo trovi? È una fotografia dell'esistente. Gli italiani si sono sempre lamentati, la pubblica amministrazione, la pubblica non funziona, è uno sport, è normale. Se chiedi a 10 persone la prima cosa che ti dicono non funziona. In realtà poi vedremo anche alcune cose che funzionano, altre meno. Vediamo cosa funziona. I motivi dell'insoddisfazione. Allora la cosa che colpisce sono 4 risposte attorno al 25% e ce n'è una del 3% che dice i motivi dell'insoddisfazione solo per il 3% sono il ricorso ancora scarso e complicato alle nuove tecnologie, al web e ai servizi digitali. Cioè il problema non è internet, mettendo più digitale non miglioreremo le cose. No, tenete conto che questa è la risposta data dal 70% che ha detto funziona abbastanza male o molto male, quindi è una parte della popolazione italiana. più o meno si divide in 4 secondo lo standard e il pregiudizio condiviso. un po' alla politica, un po' alla burocrazia, un po' al personale. Ci aspettavamo una maggiore attenzione al fattore abilitante della tecnologia. Ah, se ci fosse internet andrebbe meglio. Invece non lo dico, no. Invece è assolutamente marginale. Equivale a quelli che dicono e va tutto benissimo. Perfetto. I fattori ritenuti indispensabili per migliorare l'efficienza dell'APA. Allora ridurre la burocrazia, ovviamente, regole più severe per punire i famosi fannulloni, va bene, anche lì l'agenda digitale sta con il 10%, soltanto sbaglio, 11%. L'agenda digitale sta con l'11%. Non è percepito come un fattore abilitante fondamentale. No, la tecnologia che pure negli altri ambiti, nelle altre indagini che abbiamo fatto, anche l'ultima che abbiamo fatto insieme, gli italiani hanno una sensibilità verso l'innovazione tecnologica più alta di quella che raccontiamo e di quella che conosciamo. Cioè c'è la consapevolezza che il digitale porta futuro, che porta occupazione, che porta reddito, che porta sviluppo nel suo complesso. Paradossalmente questo non è passato verso l'APA digitale. La pubblica amministrazione soffre di mali antichi e tutto sommato non trova la cura nell'innovazione tecnologica. Ma sconta secondo te anche una disillusione dopo tanti annunci? Il fatto che ce lo dicono da tanti anni della pubblica amministrazione digitale. Sicuramente sì. Io credo che però il punto centrale non sia i tanti annunci, sia l'aver visto in questi ultimi 15 anni, perché poi non è che è cosa di ieri o di oggi, in questi 15 anni abbiamo visto sovrapporsi, sommarsi, stratificarsi progetti, che magari hanno gli stessi che cambiavano nome, che magari alcuni funzionavano bene, altri meno. Nel rapporto, noi diciamo, la pubblica amministrazione va letta attraverso i due emisferi. C'è l'emisfero di ciò che funziona, perché ci sono centinaia di amministrazioni, centrali, locali, grandi, piccole, sul territorio del nord e del sud, che lanciano, realizzano e conducono progetti straordinari. Quello che manca è il telaio, il sistema che non c'è. Allora, vediamo interessante l'uso dei servizi digitali. La cosa più utilizzata dei servizi digitali di enti pubblici è l'Inps. Mi viene a dire, poveracci, ci sono avuto a che fare adesso, adesso non vorrei discutere, ma c'è l'Inps in sala. Ho avuto un'esperienza ultima, diciamo, difficile, magari sfortunata. No, ma sai, non va giudicata attraverso l'esperienza personale, perché poi alla fine l'Inps ha due vantaggi nel mondo digitale. È partito da lontano nell'affermare il principio che bisognava arrivare a un momento in cui tutto era digitale. Siamo nel 2010, la legge finanziaria nel 2011 lo stabilisce, quindi c'è un percorso che viene da lontano. Secondo, l'Inps ha investito tanto, ha investito risorse, ha investito in uomini, ha investito in attenzione. Terzo, ha capito che doveva trovare un giusto equilibrio fra la disintermediazione dei servizi, che Internet rende inevitabile, e la capacità di avere vicino un sistema di intermediazione come i CAF. Quindi che l'Inps sia il sistema più utilizzato non ci... Quindi però vuol dire che facendo funzionare bene quello diventa una cosa che diventa un fattore... Assolutamente sì. Fa scalare molto, diventa una forza di accesso importante. Rimane il fatto, ad esempio, che la scuola è più indietro. Ci aspettavamo una scuola più avanti. Anche perché c'erano le iscrizioni online. Le iscrizioni online, il registro elettronico, la comunicazione. Il 90%, il 92% delle scuole ha dei siti web, usa i profili Facebook per colleguiare con i genitori e con gli alunni. Quindi il sistema scolastico è un sistema che dal punto di vista anche della cultura e del sistema di relazioni, perché parla con i giovani dovrebbe stare molto più avanti, più pensionati che studenti. Questo non è bene. Allora, i servizi principali conosciuti. Il più conosciuto è la PEC. Una volta si era detto alla famigerata PEC, invece finalmente adesso più o meno funziona ed è entrata nell'immaginario della vita quotidiana. Questo sì, in qualche misura. Insieme alla firma digitale sono molto alti. Ci si poteva aspettare una cosa del genere perché bene o male è un sistema che è riuscito a raggiungere tanti servizi. Per PEC tante cose non si riescono a fare, però tante altre sì. Per PEC si riescono a sostituire il sistema di raccomandate euricevoli di drone a cui eravamo abituati. Quindi la PEC è entrata nell'immaginario collettivo. Firma digitale probabilmente c'è anche da andare un pochino più a fondo perché ce ne sono troppe. Molti non hanno capito che cos'è. Molti confondono la firma digitale con il telefonino che manda la scansione. Ma insomma al di là di questo certamente è entrato nell'immaginario collettivo e la gente lo conosce. Ti colpisce secondo me? Dunque il dato della fatturazione elettronica al 50% parliamo di un servizio che sta funzionando abbastanza bene. Quindi forse è anche corretto come 50% perché riguarda le imprese che lavorano con la pubblica amministrazione. Il dato di speed è bassissimo o no? Il dato di speed è basso perché di identità digitale se ne parla da tanto tempo. Ma quello che conta non è l'identità digitale, è i servizi che in qualche modo io posso raggiungere attraverso un sistema di identità digitale che poi sia la firma digitale, sia la posta certificata, sia lo speed, quello che guida è il servizio. Però ci sono due italiani su tre che non sanno neanche che esiste speed. Ma in effetti se tu hai servizi non hai motivo di accedervi. Lo leggi, lo senti, hai visto la pubblicità in qualche modo ma nessuno è in grado di dire anche che conosci speed ma poi che ci fai. Senti, vediamo questi, diciamo, apocalittici che non usano i servizi digitali della PIA, perché non lo fanno? Tradizionalisti sono quelli che dicono cosa? Sono quelli che dicono io preferisco fare la fine alla posta? No. Preferisco il rapporto diretto? Assolutamente sì. Alla posta, ovviamente. Allora, questi sono ovviamente quelli che hanno risposto dicendo io non uso i servizi digitali. Allora, la domanda è perché non li usi? Quindi siamo nel quarto della popolazione che non usa internet o non usa dei servizi digitali. Quindi moltissime persone ritengono che l'amministrazione sia affidabile ma che devi andare allo sportello perché la tecnologia non è l'equivalente dello sportello. I tradizionalisti sono quelli che hanno bisogno del rapporto diretto. Quindi diciamo che i tradizionalisti e i diffidenti sono simili, sono abbastanza in quel partito. No, i diffidenti sono dicendo ma lei perché non lo usa, perché mi rubano i dati, perché mi rubano i soldi, perché non mi fido della tecnologia. Il tradizionalista si fiderebbe anche ma preferisce il rapporto diretto. Gli esclusi per motivi tecnologici sono in digital divide oppure non sono nelle competenze per usare digitale? Sono di, diciamo, è una somma di due figure, di quelli che hanno detto no io vorrei ma in realtà non ho la rete, non ho la connessione, non ho la possibilità. E quelli dicono no, guarda proprio non saprei neanche dove mettere le mani quindi lascia perdere. E quindi vediamo che cosa dicono, quelli fuori rete si rendono conto di essere penalizzati sì o no? Quelli fuori rete diciamo si dividono in due, sicuramente hanno la percezione di uno svantaggio perché internet e il digitale è entrato nel dialogo quotidiano, quindi un figlio, un nipote, un telefilm, tutti sanno di che cosa si sta parlando, si dividono sostanzialmente in due. E quelli dicono vabbè in qualche modo mi arrangio, ce la faccio, un amico che mi dà una mano e quelli dicono no, beh alla fine rischio veramente uno svantaggio consistente. Però il 57% dice la grande maggioranza non mi sento svantaggiato perché all'occorrenza su usare il web non viene fuori una grande domanda di servizi digitali qua. No, no. Non stanno lì proprio a dire per favore dateci una app in più. No, quello diciamo prima, alla fine la metà degli italiani dice beh in qualche modo si farà, non mi sento svantaggiato. Questa invece è diversa, sono gli italiani che invece si sentono svantaggiati e che in qualche modo porta a un'effettiva esclusione digitale, cioè la mancanza di cultura, di strumenti, di connessione, di capacità di affacciarsi e di sostituto. Quindi il nipote che ti dà una mano, il cugino che ti dà una mano, fa temere un italiano su 16, tanto per avere un numero più semplice, che poi alla fine non accederà a alcuni servizi, cioè verrà tagliato fuori da alcuni servizi della pubblica amministrazione. Cosa si aspettano i cittadini dei servizi online della PIA, anzi cosa si aspettavano? La semplificazione ovviamente, la velocità, tanti dice che non si aspettavano nulla, cioè non ci credono più, non ci credono. Questo è quello che dicevamo prima, cioè quando abbiamo fatto l'indagine noi ci aspettavamo naturalmente, la domanda è che i servizi siano semplici, che io possa andarci quando voglio, quindi che abbia uno svincolo dal tempo e dall'orario, e però alla fine devi mettere, no nessuna di queste, non mi aspettavo nulla, e questa è stata un po' la risposta prevalente. Un 30% di disincanto c'è più o meno? C'è un 30% di forte disincanto, è quello che diciamo prima, troppi progetti, troppe iniziative, troppo... Adesso è l'ora dei risultati. È l'ora dei risultati, devo vedere qualcosa che funziona. Vediamo cosa hanno ottenuto quelli che hanno lavorato, hanno interagito con la PIA digitale, la comodità ovviamente sì, anche il fatto di essere autonomi rispetto agli orari dell'ufficio, cioè posso fare le pratiche quando mi pare, però anche lì nessuna delle precedenti il 30%. C'è di nuovo, come c'era un terzo disincanto, c'è un terzo di disillusi. Ci ho provato, ho visto, ho guardato, ma ho ottenuto relativamente... Nella slide precedente cosa volevano era la semplificazione, vedi cosa hanno ottenuto? La semplificazione non tanto. Non tanto, non tanto perché poi alla fine, purtroppo questo è un vizio antico dei servizi della pubblica amministrazione, che si trasferisce nel digitale. Ciò che è semplice viene reso complicato e purtroppo nel digitale viene amplificato, perché l'utente medio è abituato a velocità, a connessione, a semplicità d'uso e anche a una facilità di risposta che nei servizi digitali pubblici è piuttosto difficile. Allora, adesso stiamo per sentire la Ministra Marianna Madia e faremo una chiacchiera e intervista di una mezz'ora e venti minuti, anzi, abbiamo concordato, quindi saremo rigidi nei tempi. Giorgio, bottom line di questa ricerca, secondo te che cosa ci portiamo a casa? Cosa abbiamo capito dagli italiani e dalla pubblica amministrazione digitale? Beh, abbiamo capito, primo luogo, che c'è tanto da fare. Che non ci sono problemi di risorse, non ci sono problemi di attenzione, non ci sono problemi di consapevolezza delle persone, c'è un'attesa e una fiducia che va fatta crescere. Oggi il cittadino guarda la PA digitale con disillusione, con disincanto, con disappunto, usiamo la parola che vogliamo, però è lì la nostra vera sfida. Senza un telaio di un'amministrazione digitale che funziona, non funzionerà neanche tutto il contesto che ruota attorno. Se non funzionano i portali pubblici, se non funziona l'identità digitale pubblica, se non funziona l'infrastruttura pubblica, è chiaro che ciascuno continuerà ad andare per conto proprio. Il pubblico ha il dovere di fare sistema. È l'unico che ha cultura, strumenti, risorse per poterlo fare. Bene, allora un applauso a Giorgio Derita.